Buongiorno signor Pietro Floreancic. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Come sta? Bene. Ma mi dica, dove sarà lei martedì 14 giugno? Allora martedì sarò al centro allende, allo spazio BOS, con la libreria Liberi Tutti e ci sarà anche lo scrittore Matteo Persica che presenterà il suo libro su Anna Magnani. Poi dopo ci sarà una mostra fotografica come delle fotografie originali che ho portato io e il suo film di Sor Letizia. Ma che bello, ma allora verremo a vedervi. Ma va bene, qui arrivi, chi volete venire? Volete per questa occasione?